shalawam 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 prima di iniziare questa breve lezione vorrei lodare ringraziare e dare tutto dovuto al padre unipotente creatore di tutto yahawa nel nome di suo figlio il nostro salvatore e messia yahawa shai e i miei saluti a tutta la casa di israele i fratelli e le sorelle che stanno facendo il lavoro coloro che stanno cercando la verità con sincerità miei saluti vorrei anche dare i miei doppi onori agli apostoli e anziani della great millstone per avermi insegnato questa verità questa lezione sarà breve e come vedete sullo schermo qui c'ho la foto delle ossa secche e questa foto delle ossa secche rappresentano la casa di israele coloro che non hanno la verità ecco cosa siete davanti al padre il padre vede come le ossa secche anzi andiamo a prendere subito dalle scritture e leggiamo velocemente prima dal libro di proverbi ok capitolo 30 versetto 5 che dice ogni parola di dio yahawa è affinata con il fuoco egli è uno scudo per chi confida in lui cari fratelli della casa di israele coloro che fanno parte degli eletti vi prego cercate la verità e la verità vi posso garantire si trova solamente dagli apostoli e anziani della great millstone ok la verità non si trova nella chiesa non si trova in nessuna religione e ricordatevi nella lezione precedente abbiamo visto il libro ora non mi viene in mente che dice larga è la strada che porta in distruzione e perdizione e stretta è la via e la strada che porta alla vita eterna pensateci smettete a correre dietro a cose queste cose vane perché ci sarà un nuovo regno un regno dopo questo regno e questo regno sarà un regno mai visto infatti nel libro di apocalisse dice che i occhi e nemmeno le orecchie ora non sono sicuro che il libro di apocalisse ma ve lo potrei trovare di occhi le orecchie non hanno ancora sentito quello che ha preparato il padre yahawa nel nome di suo figlio yahawa shai quello che ha preparato per coloro che lo amano che lo cercano ok e ora prendiamo velo velocemente un altro versetto qui dal libro di ecclesiaste 2 e versetto 13 ecco qui e dice e vedi che la saggezza ha un vantaggio sulla stoltezza come la luce ha un vantaggio sulle tenebre ok è molto importante andare in cerca della saggezza e la saggezza è questa verità che abbiamo il padre manderà di nuovo il suo figliolo yahawa shai sulla terra ma questa volta tornerà con la rabbia torna a fare il disastro a uccidere coloro che sono contro di lui è già venuto ad essere il sacrificio perfetto per redimere ognuno della casa di israele affinché possano avere una vita eterna ma stavolta viene a prendere la vita coloro che non lo amano non è uno scherzo cari fratelli stanno per succedere cose gravi cose grosse che nemmeno la nostra immaginazione non la può contenere ok ora non vorrei tenere lunga questa lezione e o mandiamo a leggere dal libro di ezechiele così vi faccio vedere la prova che queste orsa qua che vedete rappresenta la casa di israele ok coloro che non hanno questa verità che non hanno la parola sono dei zombie in realtà colui che non ha la verità che non sa questa verità che non conosce il nome vero del padre che si chiama yahawa e il nome del suo figlio che si chiama yahawa shai infatti è uno zombie andiamo a vedere ora leggiamo da capitolo 37 e beh leggo dal dall'inizio poi arriverò al punto e dice questo è una visione che il padre ha dato all'ese chiede e qui si legge la mano del signore yahawa fu sopra di me e il signore mi trasportò mediante lo spirito e mi depose in mezzo a una valle piena piena d'orsa mi fece passare preso di di esse tutto attorno ecco erano numerosissime sulla superficie della valle ed erano anche molto secche vi ricordate queste orsa che abbiamo parlato finora ed è quello che che vedeva ezechiele la continuiamo mi disse figlio d'uomo queste ossa potrebbero vivere e io risposi signore yahawa tu lo sai e li mi disse profetizza su queste ossa e di loro ossa secche ascoltate le parla parola del signore ora vi faccio una domanda si possono parlare con delle vere ossa secche che sono morti no perché abbiamo anche il versetto che dice mi morti non sentono nulla ok perciò queste ossa secche rappresenta la casa di israele poi andremo a vedere proprio il punto dove lo dice continuiamo così dice yahawa il signore a queste ossa ecco io faccio entrare in voi lo spirito e voi riviverete metterò su di voi dei muscoli farò nascere su di voi della carne vi coprirò di pelle metterò in voi lo spirito e riviverete e conoscerete che io sono il signore yahawa lo profetizzai come mi era stato comandato e come io profetizzavo si fece un rumore ed ecco un movimento le ossa si accostrarono le uno alle altre lo guardai e ecco venire su essa dei muscoli crescervi la carne e la pelle e ricoprirle ma non c'era in esse nessuno spirito ok stiamo per arrivare al punto allora egli mi disse profetizza lo spirito profetizza figlio all'uomo e dia lo spirito così parla l'onipotente yahawa ok vi ricordate che lo spirito io ne avevo parlato con mio fratello tempo fa che lo spirito in realtà è la verità lo spirito è la verità in realtà è quel spirito là che ti illumina che ti porta alla verità ma per accorciare le parole e andare diretto che cosa è lo spirito santo lo spirito santo è la verità ok quindi abbiamo in mente questa cosa qua così parla yahawa vieni dai 4 20 o spirito soffia su questi uccisi e fa che rivivano ok lo profetizzai come egli mi aveva comandato e lo spirito entra entrò in essi tornarono alla vita e si alzarono in piedi erano un esercito grande grandissimo e questo sarà la fine della casa di israele al ritorno degli yahawashai il nostro salvatore quando ci quando ci rimetterà in vita ok saremo immortali ok saremo degli eserciti suoi ok ma il punto qui prima di questo punto sta parlando proprio in generale della casa di israele che siete voi che siamo noi ok coloro che si sentono dallo spirito che hanno antenati israeliti che provengono dai mori che hanno governato su 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 qua in europa coloro che si sentono parte della casa di israele ok che è lo spirito che dice questo ok queste orsi siamo noi quando non abbiamo la verità siamo delle orsa secche ok e ora ecco il punto qua il punto si trova in versetto 11 e lì mi dice e lì mi disse questo è il padre yahawa che parla con e ezechiele e lì mi dice figlio al duomo queste ossa sono tutta la casa di israele avete visto ripeto e lì mi dice figlio al duomo queste ossa sono tutta la casa di israele ecco essi dicono le nostre ossa sono secche la nostra speranza è svanita noi siamo perduti perciò profetizza e di loro così parla il dio yahawa signore ecco io aprirò le vostre tombe vi tirerò fuori dalle vostre tombe o popolo mio e vi ricondurrò nel paese di israele ok qua sta parlando queste tombe queste tombe rappresentano le nostre immaginazioni nostre immaginazioni vani perché noi andiamo dietro alle ricchezze e andiamo dietro alle illusioni di esaù esaù è quello che comanda questo questo regno che stiamo vivendo adesso perciò dico di nuovo o figli di israele cari fratelli a chiam e acquat che state cercando la verità sinceramente questa verità è quello che vi rimette in vita dovete uscire dalle vostre pensi dei vostri pensieri vani volete fare carriera in questo mondo ma vi dico è tutto vanità perché torna il figlio yahawashai ok queste cose non ti possono non ti possono salvare pregate affinché padre vi possa aprire gli occhi affinché potete capire queste cose qua ok le tombe è proprio questa vita che stiamo vivendo questa vita che stiamo vivendo che corriamo tutti dietro i soldi e la morte e ricordatevi nel libro di romani che dice adesso andiamo a cercarlo se dovete trovare romani sei venti tre sei e venti tre ecco dice perché scusatemi il salario del peccato è la morte è la morte ok il salario del peccato del peccato è la morte ma il dono di yahawashai è la vita eterna in yahawashai il nostro salvatore ok perciò carissimi fratelli il salario del peccato ok che cosa vuol dire il peccato il peccato è non vivere e fare le cose contro 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 i comandamenti anzi c'è un versetto che lo dice sin is transgression of the law primo giovanni 34 primo giovanni abbiamo detto 34 34 ecco questo è la definizione del peccato chiunque commette il peccato trasgredisce la legge il peccato è la violazione della legge ok quali sono questa legge per l'ennesima volta stiamo leggendo del nuovo testamento perciò non ci sono scuse che questi queste legge sono stati cambiati erano dei tempi antichi questi sono ingani che usa satana ok questi sono ingani a che usa esaù per inchiodarvi nelle tombe come abbiamo letto prima nel libro di ezechiele carissimi fratelli io vi consiglierei di tornare nel libro ok nel libro di essodo ok nel libro di levetico andare a leggere questi comandamenti non sono solamente dieci sono 613 comandamenti ok e vedrete che ogni comandamento è per il nostro bene e per il nostro bene non sono difficili è logico che non riusciamo a mettere in pratica tutta tutta ecco perché abbiamo la grazia di yahwah shai ma cerchiamo di mettere al nostro meglio della nostra capacità queste leggi qua e uscire venire fuori da ogni religione e questo è quello che ci ha comandato il padre smettete di mangiare smettete di mangiare le vongole le cozze che queste cose sono proibiti sono animali creati per pulire il mare non sono fatti per l'uomo ok smettete di allineare i vostri capelli lasciate la vostra barba ok osservate il sabato ok che non è giorno del sabato questa è un'altra lezione ok ci ne sono tanti comandamenti amate tra di voi ma quando dico amate tra di voi tra la casa di israele perdonate i fratelli vostri della casa di israele ok non voglio portare più a lungo questa lezione spero che è stato edificante e detto questo vi saluto alla prossima